maccarone vieni qua maccarone 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 bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi sono qui su food15 insieme al mio cugino bella a tutti ragazzi e siamo qua per fare una partita singola online tre partite singole online con una formazione un po' particolare perchè abbiamo come bomber abbiamo come bomber lui Mastro Lindo Mastro Lindo Maccarone questo uomo ragazzi il nostro obiettivo sarà quello di fare almeno tre gol in tre partite speriamo con maccarone e... 2000 allora io ho messo una squadra italiana dietro così magari l'intesa sale un po' e magari i passaggi arrivano forse non lo so comunque niente direi che possiamo andare con la prima partita eeeh vai benzemali benzemali maria isco hazard uno a destra che cazzo è? non so chi c'è no c'è oscar oscar company miranda mi sembra vabbè curva in porta no 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 oh viviano grandissimo maccarone maccarone da quanti metri non so però 40 metri no 50 no 40 per no non so di si maccarone da centrocampo quasi si maccarone può fare gol da qua da qua maccarone può fare gol fa gol da qua maccarone maccarone no no non ci credo non ci credo non ci credo tira maccarone da fuori da attraverso di maccarone no non fai gol non fai gol no vai maccarone si lanci l'attacco maccarone tiro lui la porta si ferma il tiro ma che scherzo di tiro lancia un maccarone uno vai maccarone 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 no non ci credo non può superarmi ma spero di maccarone vieni qua maccarone 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 maestro lindo maccarone contro no incredibile ragazzi questo uomo ha 35 anni intanto però guardiamo l'assist di Assharaway che forse era anche fuori gioco ma va bene lo stesso maccarone fa sempre gol no cazzo no 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 ragazzi è il 120esimo va bene ragazzi il rigore abbiamo perso ma maccarone è riuscito a fare un gol quindi ce ne mancano due da fare in due partite 80-300 ehhh boom vai maccarone maccarone già maccarone stop di testa e poi ha fatto una giravolta vai maccarone vai corri maccarone corri maccarone incredibile incredibile maccarone maccarone ehhh e sinistro due gol in due partite incredibile maccarone pastro lindo maccarone è un bomber nato proprio cioè non ce n'è come lui neanche Hart può fare niente no 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 fermatelo no cazzo baffanculo vai maccarone ancora lui maccarone tiro Hart la para ma non riesce a bloccarla perchè la potenza di maccarone è devastante maccarone ancora maccarone provo il tiro mamma mia maccarone non facciamo gol pericolo è quel tiro che bella merda e adesso maccarone deve farne due per farci vai maccarone maccarone prova il miracolo da fuori oh maccarone oddio maccarone come stava per fare sarebbe stato il gol dell'anno maccarone incredibile maccarone prova il 10 vai maccarone bravissimo maccarone bravo il tiro mamma mia maccarone quasi bobbietta ha quittato ma perchè ha quittato droga ragazzi guardate la valutazione di quell'uomo 8,6 va bene ha quittato e quindi niente c'è una data vinta perchè aveva paura di maccarone ci rimane l'ultima ci rimane l'ultima partita bene ragazzi siamo pronti per l'ultima partita ok è una squadra seriana quasi maccarone di prima mamma mia maccarone subito ci da dentro già dall'inizio maccarone vai maccarone il tiro maccarone maccarone è uno gol di maccarone maccarone ragazzi quest'uomo tre gol in tre partite obiettivo minimo è già raggiunto ma adesso possiamo anche usare anche se non vinciamo la partita non mi interessa quest'uomo è un buon Bernato maccarone il tiro mamma mia ragazzi da fuori addirittura ci prova vai maccarone incredibile maccarone 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 ma che stavo facendo ragazzi quest'uomo sa fare anche i uberi maccarone rigone fallo rigone rigone e qua maccarone ragazzi può segnare il quarto gol stavo pensando se tirare o no maccarone ragazzi ci proviamo con il cucchiaio ed ecco ragazzi ragazzi questo nuovo 4 gol in 3 partite è un vero bomber guardate con quanta classe con quanta maestria a mettere il pallone dentro con un bel cucchiaio maccarone 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 madonna ragazzi ragazzi maccarone stava per fare un euro goal maccarone incredibile maccarone tira e lui maccarone uuuuuh guardate questo maccarone no oh ragazzi ragazzi e questo sarebbe stata una cosa pazzesca oh cazzo rigore questo è rosso questo è rosso no cazzo ok ah vaffanculo si si risulta quanto vuoi ma tanto maccarone ti ha fatto 2 gol maccarone maccarone uccide l'avversario e prova il tiro il tiro fisico e finisce la partita ragazzi quest'uomo maccarone ha fatto 4 gol in 3 partite ha superato il minimo sindacale degli gol e ragazzi io ci sono parole per descrivere quanto quest'uomo mi abbia rapito il cuore proprio io sono appassionato di maccarone e non vedo l'ora di andare a vendere una partita dell'Empoli così posso prendere un suo autografo 9,1 di valutazione per maccarone pallone d'oro fatemi sapere ragazzi nei commenti se nel prossimo video volete vedere qualcun altro come bomber anche se magari è un difensore o un terzino o un altro ruolo va bene allo stesso e purché non sia diciamo che abbia una valutazione che non superi 72 e 75 insomma non sia troppo forte ci vediamo nel prossimo video un saluto da schetto ciao a tutti ciao ciao ciao